E' stato il baglio del Museo dell'Aciughe delle Arti Marinare di Aspre in provincia di Palermo ad ospitare la seconda edizione della rassegna Un mare di Risate, con la direzione artistica di Salvatore Mancuso e Salvatore Lamantia, in arte Toti e Totino. Una manifestazione che si è proposta come contenitore e cassa di risonanza per la realizzazione, attraverso un percorso emozionale, sensoriale, artistico e gastronomico, di un'azione mirata alla promozione dei prodotti ittici, ottenuti con sistemi sostenibili sotto l'aspetto ambientale, ecologico e socio-economico, unitamente alla promozione delle tradizioni marinare e in particolare degli antichi mestieri della pesca artigianale. Ultima di esibirsi con il suo spettacolo dal titolo Pan, Amore e Fesserie è stato il comico palermitano Marco Manera. Ebbene sì, a Un mare di Risate 2023 c'ero anche io. E' stata una manifestazione straordinaria, con Toti e Totino protagonisti, Stefano Piazza e modestamente anche col mio spettacolo, in un'atmosfera straordinaria quale quella del Museo dell'Aciuga di Aspra, di Michelangelo Balistre. Abbiamo parlato di pesca, si è degustato il pescato, la nostra marineria, in un'atmosfera raccolta, che non c'era manco il bisogno che io salivo sul palco per fare lo spettacolo, perché lo spettacolo eravamo tutti noi. Un mare di Risate è un progetto realizzato con il patrocinio della regione siciliana, assessorata all'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e del Dipartimento della Pesca Mediterranea.